Brava Inter, bravi tutti, perché questa è la partita strategicamente più importante, secondo me, da vincere in questo periodo. Questo è il sigillo a una situazione che ci può portare, grazie a questa vittoria, segnatela, a un febbraio dove combatteremo contro tutto e tutti i sogni in fronte ci porterà a giocarcela con molta tranquillità, perché questa partita con illipsia è stata sofferta, nel senso che a un certo punto abbiamo abbassato il balicentro, loro sono stati, nonostante questo attacco tanto decantato, ma venivano da tante sconfitte in Champions poco operativi sul fronte offensivo, a un certo punto quasi prima del finale, dove poi siamo tornati a essere molto pericolosi con un dubbio gol annullato, siamo stati un po' sotto pressione, under pressure, però questo è un risultato, l'ennesimo, che fa esaltare la difesa dell'Inter, che è la storia dell'Inter. Quando l'Inter ha una difesa forte, l'Inter a fine anno qualcosa porta sempre a casa, e grattatevi pure, dove dico io, però questo dice la storia, questo dicono i fatti, e io impazzisco, sono un grande risultatista, sono un po' bipolare nel calcio, nel senso che adoro gli allenatori alla Zeman, alla Sacchi, anche Guardiola, De Zerbi, poi Sarri, poi a un certo punto, quando devo scegliere, scelgo sempre chi fa il risultato sui campi difficili, chi lotta alle difese, quindi Drapattoni a Mourinho, tutti quelli che combattono e che ho vissuto di più all'Inter, però devo dire che mi piace tutto il calcio, mi piace il calcio di oggi, che è un misto, perché oggi, bene o male, l'Inter di Inzaghi ha messo di nuovo la difesa in risalto, perché nessuno ci fa gol in Champions, poi qualcuno ci romperà i coglioni, perché dirà che il Manchester è il peggiore della storia, e quindi, così come anche oggi, credo abbia, si sia fatto raggiungere sul 3-3 dal Feyenoord agli ultimi minuti, allora qualcuno dice, beh, il Tottenham ha vinto 60-0, allora l'Inter, che abbiamo esaltato in quella partita, in realtà ha fatto qualcosa di normale, anzi, ha fatto peggio che le altre, cavolate, l'Inter a Manchester l'ha fatto bene e le altre le ha vinte tutte, certo, oggi ha vinto 1-0 contro l'Ipsia, che non ne ha mai vinta una, oggi conferma l'1-0 anche del gol di Ciala con l'Arsena, conferma l'1-0 sul campo degli Unboys, che oggi passa in secondo piano, perché l'Atalanta devastante di Retegui, di De Keteler, di tutti, di Lazar Samarczyk, va a vincere sul sintetico, che sembrava un problema insommontabile, e lo era anche secondo me, perché è difficile cambiare campo, invece l'Atalanta non so che cosa c'è addosso, io adoro anche per origini Bergamo, abito qua vicino, insomma, viva Bergamo e sono molto contento, 6-1 all'Univan Boys, quindi qualcuno dirà, eh, l'Inter l'ha vinto solo 1-0, non ce ne frega nulla, l'Inter nel complesso fa 13 punti, insomma, su 15, perdendo, tra virgolette, gli unici due punti a Manchester, contro una delle squadre più ricche e forti al mondo, quindi una Champions straordinaria, che oggi commento qua dalla schivania, poi ci vediamo su Ossivu, che dire, mi è piaciuta una cosa, soprattutto, oltre alla difesa, che con De Vrij ha controllato bene, ha avuto un attimo, un paio con USA, ma anche con Open Data, insomma, qualche momento di difficoltà, ma qualche momento nella partita ci sta sempre, però, oggi quello che mi è piaciuto di più è Piotr Zielinski, Piotr Zielinski, Piotr Zielinski, un calciatore sontuoso, straordinario, che fa un ruolo, si chiama mezzala. Batto le mani a Piotr Zielinski, che quando fa la mezzala è devastante, sinistra, calcio, piede, rientri, rigiri. Oggi mi aspettavo da lui anche un gol o un turbo euro assist, qualcosa di fantasmagorico, invece si è limitato a essere uno dei migliori in campo, anche Barella, anche quando è subentrato Turami, il cuore di Di Marco, tutti bene, mi spiace per Pavard, che forse si è fatto, non lo so, uno stiramento, niente di grave, però, peccato, peccato le due amminizioni, che, insomma, vabbè, poi ci hanno costretto a giocare in maniera un po' diversa, mi dispiace per Taremi, che anche oggi è stato sostituito e non è riuscito a incidere, e poi ha rubato anche una mezza palla di Marco su un traversone, mi pare, di Dumfries e, insomma, qualche, diciamo, incompressione tra Di Marco e Taremi. Mi spiace che non abbia segnato me di Taremi, Arnautovic è entrato e solito Arnautovic, Turami invece è entrato bene, però Piotr Zielinski, se fa la mezzala, fa paura. Quindi, io qualcosa dell'Inter del futuro, diciamo, non è che conosco, ma mi hanno raccontato l'idea che all'Inter del futuro, se rimane Ciala, come spero, e Zienischi fa la mezzala con Barella, Barella a mezzala a destra, Zienischi a mezzala a sinistra, secondo me, questa può essere un'Inter devastante, calcolando che, oh, non è che Mitichi Italia mi fa schifo, Fratesi mi fa schifo, dico che in certe partite, un po' per la tipologia di gioco di Fratesi, un po' per l'età che avanza di Pippo Franco, anche se è un grandissimo professionista e che mangia bellissimo, bravo Pippo, diciamo che Zienischi, Barella a Ciala è un centrocampo devastante, con qualità, quantità e soprattutto un pochino di uomini che forse riescono anche, soprattutto Zienischi, a brillare nel dribbling. Rose, insomma, ce lo ricordiamo, ha già allenato, mi pare, il Borussia Mönchengladbach, all'epoca aveva Turama, all'epoca aveva forse anche Sommer, aveva vari giocatori, aveva quell'attaccante, mi sfugge il nome davanti, comunque avevamo fatto un po' di fatica, oggi invece non è riuscito a metterci in difficoltà, neanche con le classiche armi, insomma, della Germania calcistica, provato a giocare in un modo un po' elastico, un po' si difendeva, un po' ci offendeva, alla fine non è riuscito mai a pressarci con costanza nella nostra area. L'Inter quando riparte devastante, poi come Zala, uno come Zienischi, è chiaro che poi hai molto più campo, ti allunghi, gli avversari sono obbligati a ripiegare, non si possono troppo concedere, insomma, folate offensive. Ovvio che qualcuno dirà che abbiamo vinto su otto gol e questo nonostante il dominio, nonostante i numeri, nonostante le occasioni, nonostante anche qualche occasione per loro, dobbiamo dire che in effetti diciamo che se fosse stata una finale di Champions o di Coppa del Mondo sarebbe stata decisa, purtroppo per fortuna, da un colpo di tacco all'indietro involontario, che fosse volontario di uno dei difensori, insomma, Lucreba, che poi è uno dei più forti. Quindi un infortunio, tra virgolette, calcistico, che ci permette però di guardare a questo periodo che verrà con grande fiducia, perché adesso siamo a un mese da Natale, il 28-29 c'è il Cagliari o il Como e prima di Natale c'è il Cagliari o il Como, non mi ricordo mai. Siamo in una situazione in cui o nella quale vedremo le altre che risultati faranno, ma siamo a un passo dall'accesso nelle prime otto. Poi tutto può cambiare e il Milan potrebbe fare 12 punti. Qualcuno ha contestato Fonseca ma mi hanno ricordato che questo è il Milan migliore da quando è rientrato 3-4 dei fan della Champions, ma anche l'Atalanta, Tarell, qualche squadra rallenta, credo che l'Inter però con 13 punti su 15 possa guardare, diciamo, alle partite che verranno con molta fiducia e con molte possibilità di passare il turno. E questo mi fa piacere, perché abbiamo bisogno di recuperare le forze, di sistemare la reparazione, di recuperare qualche infortunato e qualche giocatore un po' che si deve ancora riprendere da un'annata o da annate, come dicono anche al Real, troppo dure. E questo periodo, con questa meritatissima, quindi faccio i complimenti a tutti, a Zaghi, ai calciatori, alla professionalità, al pubblico che ha sostenuto. Insomma, sono contento che questa vittoria, che era strategicamente la più importante, ci permetta di guardare alle partite che verranno tantissime da qua a Capodanno con tranquillità, che non vuol dire sottovalutare, ma vuol dire poter giocare sapendo che là siamo messi meglio di tutti o quasi e siamo forse primi in Europa e che in campionato possiamo prenderci tutto quello che è nostro, perché insomma alla fine le partite che ci aspettano sono un po' tostine, le Fiorentine-Lazio, però mi piacerebbe regalare la Fiorentina-Lazio, la loro prima delusione coccente con un bel 3-0 la Lazio e un 3-0 la Fiorentina, così da rimettere le cose a posto. Questo è il mio sogno per puntare poi, insomma, presto a riprenderci quel campionato che secondo me ci vede, insomma, favoriti giustamente, ma ci vede anche più forti. Oggi l'Inter, anche oggi, ha dimostrato che se cura la difesa e gioca, come sa, anche con un 1-0 sporco gestito, può essere bella da vedere, magari non bellissima sempre, ma comunque vincente. Quello che conta è il risultato, quindi complimenti a tutti, ci vediamo su TV, forza Inter sempre!